Ciao a tutti, eccoci qui ad Arenzano, nelle Serre di Verde Gioia, per svelarvi il premio che ci sarà per il vincitore del contest di dicembre. Un meraviglioso kokedama preparato da Giuseppina con una Phalaenopsis in stelo che arriverà nelle vostre case decorata con le lucine di Natale, pronte per scaldare e abbellire le vostre feste. Un ringraziamento speciale a Giuseppina e Andrea di Verde Gioia Orchidee per aver messo in paglio questo bellissimo regalo e vi ricordiamo di continuare a postare le vostre foto delle fioriture delle vostre orchidee, ovviamente a tema natalizio questa volta. E adesso ne approfittiamo anche per augurarvi una bellissima festa dell'Immacolata. Ciao a tutti! Grazie a tutti!